Sono iniziati oggi corsi di alta formazione nella caserma Tito Giorgi della Guardia di Finanza. Il processo di empowerment della Guardia di Finanza è inserito infatti nel POR 2014-2020 del Fondo Sociale Europeo. I corsi sono organizzati dalla Regione Abruzzo tramite una loro società, all'Aquila e Pescara, e sono rivolti al personale delle Fiamme Gialle, ma anche a quello della Regione. Sono molto importanti perché riguardano temi di attualità come codice degli appalti, contabilità pubblica, PNRR, società partecipate, aiuti di Stato, criptovalute, e prevenzione delle frodi. La formazione mira al rafforzamento delle competenze giuridico-economiche e tecnico-professionali del personale, che fa parte, vale la pena ricordarlo, di una forza di polizia economica finanziaria, 160 i militari interessati. È un'iniziativa molto importante, ringrazio il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsiglio, perché è stata sviluppata una sinergia tra Guardia di Finanza e Regione Abruzzo per la possibilità di svolgere corsi di formazione in materie quanto mai attuali. Parliamo appunto di codice degli appalti, legge di finanziamento a livello europeo, fondi pubblici, PNRR, corsi in lingua straniera. Quindi questi corsi consentiranno alla Guardia di Finanza, alle Fiamme Gialle ed Abruzzo, di essere sempre più aggiornati e contrastare efficacemente le sfide di contrasto appunto agli illeciti, all'infiltrazione criminali nella gestione dei fondi pubblici, dei fondi PNRR che nei prossimi tempi ci aspettano. La Regione Abruzzo ha svolto una riedizione di un corso contenuto nella misura del POR FSE 1420 che aveva ottenuto un grossissimo successo. Ha deciso di concerto con la Guardia di Finanza di procedere a questa tradizione proprio per diciamo coinvolgere non solo naturalmente gli operatori che tecnicamente svolgono attività di contrasto alle frodi ma svolgono controlli di carattere finanziario ed è il motivo per il quale diciamo la Regione ha concentrato la sua attenzione su questo corso perché l'obiettivo ultimo della Regione è quello di consentire la ricaduta delle risorse sul territorio. Grazie a tutti.